Per questa seconda del convegno è una debuttante per cavalli di due anni, otto in primo, uno in secondo, sono in nove, sul numero uno che è poi il favorito, Blue Sky Packs sale Antonio Di Nardo. Buone prove di qualifica, ottime genealogie, insomma veramente una corsa interessante, però punto interrogativo, sono tutti debuttanti. Quindi gradatamente allineamento che va a completarsi, 200 metri prima dello stacco, un po' arretrato il 5 di Big Freedom, imitato a Brighton Cuff o Britton Cuff. Via la macchina. Si lotta per il comando con all'argo di tutti Babaido che cerca di impegnare a fondo Blue Sky Packs per il comando ma si inserisce Biagio Jet e Biagio rientra all'avversario e va al comando. 13,9 per il jet di Vincenzo D'Alessandro Junior, il mancino De Cristoforo, vanno vinti consigli e con il Baba. Parcheggia al completamento del quarto iniziale. Lunga fila indiana, molto sfilazziata, 30, ha ridotto subito il ritmo, il leader, Biagio, un figlio di Marajà, tanto per cambiare. L'errore del 5, del 3, dell'1 e del 2. Ne rimangono almeno, sembra in pochi, 45,6 da 1,16, 600 iniziali e i cavalli affrontano la piegata con 5 cavalli che hanno preso il largo sul resto dei galoppanti. Insegue Minopoli. Mezzo miglio in 1,2 e mezzo, 16,9 di frazione, comodissima. E i cavalli affrontano il penultimo rettilineo con Biagio che va ad agio e sta al comando. Sposta e viene via il 4 di Bianca Griff, 18,4 km, incisiva la Bianca targata Griff. E' molto incisiva la Bianca, questa bellissima figlia di uno stallone francese che tenta di rientrare però Biagio. E' stato preso un po' in contropiede. I tre quarti di miglio in 1,33 e 4, i due lottano. Cavalli addirittura, Biagio e Bianca le prese. Retta d'arrivo torna la carica bianca, la brillantissima, il papà francese sta passando su Biagio che al debutto ha corso niente male. Più lontano il set di Brighton Cuff vince Bianca Griff e così al debutto si battezza subito. 2,4 e mezzo, 1,17,8, quindi il probabile arrivo di questa corsa è 4,6,7 con la bianca targata Griff, una bella figlia di brillantissime e Moonlight B, Antonio Esposito, proprietario, driver e anche training. E' tutto per il momento, la quota Borbotta, 3,69. Linea allo studio. Grazie a tutti.